L'analogista è una figura professionale sostanzialmente, nata qualche anno fa dall'esigenza di creare proprio un professionista esperto del macrogruppo delle discipline analogiche. Le discipline analogiche che sono praticamente un complesso di conoscenze create da Stefano Benemeglio nel corso di 50 anni di studio. L'esperto appunto che si è formato nella formazione integrale in discipline analogiche è appunto l'analogista, quindi l'esperto massimo delle discipline analogiche. Può applicarle in vari contesti, può applicarle nel singolo per portare la persona a vivere una vita più piena, un benessere più completo, può portarle anche nelle aule per mettere a conoscenza anche gli altri di questo complesso di discipline. È una figura che negli anni abbiamo anche cercato di rendere il più istituzionale possibile giustamente, quindi è una figura regolamentata oramai dalla norma proprietaria di Stefano Benemeglio che attesta sia la proprietà intellettuale di queste conoscenze, sia il fatto che c'è una norma di riferimento professionale. Quindi la persona si forma sulla base di una norma predefinita. Quindi noi sappiamo che l'analogista ha quelle determinate conoscenze. Poi è anche regolamentato da una legge, la legge 4 2013, che sostanzialmente disciplina tutte quelle professioni che non sono regolamentate in ordine in collegi, tra cui anche l'analogista rientra come figura professionale del benessere olistico.